A seguito dell'accurato lavoro di preparazione di messa in sicurezza disposto dalla prefettura catanese, sono state fatte brillare le campate del vecchio ponte ferroviario dell'ex linea ferrata Caltagirone-Niscemi-Gela. Si era più volte detto che bisognava ripristinarlo, ma alla fine si è deciso di abbatterlo. Non esiste più dunque il ponte a procurare la deflagrazione accompagnata da uno spaventoso boato, ben 80 fori praticati nei piloni con altrettante cariche di dinamite. Oggi è il momento in cui la regione deve fare la propria parte assieme a RFI, quindi non pensate solamente alla demolizione del ponte ma a iniziare sin da oggi a porre la prima pietra per l'eventuale ricostruzione e riapertura della Catania-Caltagirone-Gela. Oggi più che mai è l'interesse da parte dei sindaci di Caltagirone-Niscemi e anche Gela di fare pressioni sulla regione affinché questo progetto non cada nel dimenticatoio. La cosa più importante è quella di attivare successivamente con le istituzioni e tutte quelle forze sociali il ripristino della tratta ferrata Niscemi-Caltagirone, anche perché sappiamo bene che una tratta così importante che investe un territorio che vada oltre i 500.000 abitanti non ne può fare a meno di avere una tratta ferrata, un treno che vada da Catagirone-Gela. La linea per essere riaperta vuole il viadotto ricostruito, ovviamente, questo è fuori dubbio. E' chiaro che non potremo che ricostruire il viadotto se la linea sarà riaperta, in base poi a una determinazione che faremo dopo che avremo completato tutti quegli studi che sono in corso. Il ponte, situato in Contrada Angeli, zona agricola che ricade lungo la strada provinciale 39 che da Caltagirone porta a Niscemi, fu costruito con piloni in murature e arcate di cemento armato ben 62 anni fa e con estrema lentezza i lavori si conclusero solo nel 1979. Era venuto giù da un'altezza di 50 metri tre anni fa, precisamente l'8 maggio del 2011. Il cedimento interessò due delle 11 campate, fortunatamente in quell'occasione si evitò una tragedia solo perché l'episodio avvenne di domenica e dunque non c'era nessun treno che percorreva quella tratta.